Un pari che dà morale contro una grande squadra, è così? Sì, è così sicuramente, abbiamo fatto una gran partita, l'avevamo preparata così e siamo contenti del risultato perché mi ha messo grande voglia e comunque pareggiare contro la seconda in classifica è tanta roba. Parlando del rigore, com'è andata? Io ero dietro, però ho visto una mano alzata, ho visto che ha preso, cioè mano netta, non avevo visto di chi era poi comunque ha detto che rivedendo le immagini ha preso al loro giocatore, quindi penso sia netto. È stata premiata la voglia di crederci fino alla fine? Sì, beh, come è successo in molte altre partite, noi non vogliamo mai fino al novantesimo, poi questi sono episodi che capitano, quindi prendiamo tutto quello che viene. Quella di stasera è una gara più equilibrata rispetto a quella dell'andata? Sì, sicuramente, anche perché secondo me rispetto all'andata ci avevamo messo grande voglia, grande grinta, mi ha fatto una gran prestazione di squadra e quindi penso che oggi ce la siamo giocata alla pari contro un avversario di livello. Domenica ci sarà il derby contro il Modena, è un'altra sfida importante? Beh, penso che tutte le sfide da qua fino alla fine sono importanti, sicuramente il derby è una partita sentita, però credo che possiamo giocarcela tranquillamente con tutti.